Benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Metti mi piace, e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Il mondo dello spettacolo italiano si unisce nel dolore per la scomparsa di Marisa Iossa, madre della famosa conduttrice televisiva Roberta Capua, e storica vincitrice di Miss Italia nel 1959. La signora Iossa è venuta a mancare all'età di 85 anni, lasciando un'eredità di bellezza e grazia che ha segnato la storia del celebre concorso di bellezza. Nata nel 1938 a Napoli, Marisa Iossa ha conquistato il titolo di Miss Italia in una delle edizioni più memorabili, quella che vide per la prima volta Enzo Mirigliani nel ruolo di patron. La finale di quell'anno si svolse a Ischia, con ben 34 partecipanti, e una giuria di 15 membri, in una serata che si concluse nel rinomato locale o Sarracino. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata dalla figlia Roberta Capua, anche la vincitrice di Miss Italia nel 1986, attraverso un toccante post su Instagram che includeva una foto della madre. Numerosi VIP hanno espresso la loro vicinanza a Roberta Capua in questo momento di lutto. Marisa Iossa, descritta come una bellezza, acqua e sapone, che non cercava di attirare l'attenzione, non ha proseguito la carriera nel mondo dello spettacolo dopo il suo trionfo. A differenza della figlia Roberta, che ha seguito le orme della madre vincendo lo stesso concorso, e proseguendo con successo nel mondo della televisione. La scomparsa di Marisa Iossa è stata ricordata anche dalla pagina ufficiale del concorso di Miss Italia, che ha espresso cordoglio per la perdita di una delle sue più importanti vincitrici. Roberta Capua, nata a Napoli nel 1968, oltre a vincere Miss Italia, si è classificata seconda Miss Universo nel 1987, per poi intraprendere una carriera di successo come modella e conduttrice televisiva. Dopo una pausa dalla televisione nel 2008, è tornata sul piccolo schermo nel 2016, e nel 2017 ha vinto la versione Celebrity di MasterChef Italia. Attualmente sposata con l'imprenditore bolognese Stefano Cassoli, con cui ha un figlio, Roberta Capua continua a essere un volto noto e apprezzato del panorama televisivo italiano. Facciamo le nostre più sentite condoglianze a Roberta Capua per la dolorosa perdita. Grazie